Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in un nuovo video. Chiacchiere a fumetti, troverete appunto una chiacchierata tra noi riguardante una serie, un fumetto, un volume unico che mi ha particolarmente colpita e di cui magari non sempre posso farci una recensione completa quindi chiacchiereremo riguardante il fumetto, quindi vi spiegherò quello che mi è piaciuto quello che non mi è piaciuto, quello che mi ha suscitato un fumetto in generale. In questo caso il primo appuntamento con chiacchiere a fumetti riguarderà Blue Flag. Blue Flag non lo avevo assolutamente notato all'inizio, nemmeno quando è stato annunciato perché non pensavo fosse un triangolo amoroso classico, appunto lui ama lei, lei ama l'altro eccetera eccetera, quindi non l'avevo assolutamente notato e non mi interessava nemmeno. Anche guardando appunto la copertina del primo volume non mi aveva suscitato assolutamente nulla poi un giorno una ragazza su Instagram non mi ricordo mai, JP, non mi ricordo, scusami non mi ricordo il nome, se mi ha detto il nome comunque ve lo lascio qui sotto il nome su Instagram mi scrive e dice ti voglio consigliare un manga che è Blue Flag poi sono andata a sentire anche i pareri di Chibis The Way e alla fine mi sono deciso, sono andata in fumetteria io quando vado in fumetteria, se non lo sapete è un problema perché vado in fumetteria per prendere una cosa e poi ne prendo altre 150 e ho detto vabbè dai prendiamo, devo prendere una cosa sola che non mi ricordo quale sia non mi ricordo, no, zucca maione di no ma sicuramente era un volume d'ignite perché vado in fumetteria solo per quelle e mi è saltato all'occhio Blue Flag e mi sono ricordata appunto del consiglio di questa ragazza e ho acquistato il primo volume a 4,50 euro non avevo nessuna aspettativa infatti agli inizi vedevo questa ragazzina che era Futaba e Tachi e non mi aveva suscitato assolutamente nulla le prime pagine non mi dicevano niente pensavo fosse uno shoujo scolastico come 150 ce ne sono a migliaia appunto di shoujo scolastici il problema è sorto appunto quando pian piano ci sono delle rivelazioni riguardanti i personaggi principali come l'amica di Futaba o Toma che è uno degli obiettivi di Futaba infatti se non ve l'ho detto la storia appunto parla di Tachi che non ha mai avuto né un amico né una ragazza che però incontra per caso Futaba che decide di affidarsi a lui perché lo ha visto grande amico di uno dei più ambiti della scuola e ha deciso di farsi aiutare da Tachi per avvicinarsi a Toma Tachi accetta cerca di farla avvicinare e quindi la storia ruota appunto su Tachi che cerca di aiutare Futaba non spesso riuscirà ad aiutarla molto spesso perderà la pazienza eccetera ma quello che mi ha colpito appunto sono le rivelazioni che vengono lasciate qua e là o certe volte rivelazioni proprio palesi certe volte trascinate un po' e non fate percepire o comunque io non le ho percepite soprattutto riguardante di chi è innamorato chi è una storia che ho scoperto essere LGBT ma che a differenza dalle storie LGBT che ho letto ultimamente quindi il marito di mio fratello oltre le onde che sicuramente è molto più bello di questa storia perché parla delle varie tipologie di sessualità in questo caso lo trovo adatto sicuramente ad un pubblico più giovane sicuramente soprattutto a chi ancora deve affrontare il tema della sessualità nel profondo chi è ancora indeciso o comunque non comprende se stesso questo è un tema in cui gli adolescenti si potrebbero ritrovare assolutamente ma io che ne ho quasi 34 mi ha colpita tantissimo quindi ho deciso di recuperare anche il secondo volume il secondo volume è ancora meglio del primo perché se nel primo succede qualcosa alla fine che dici che cavolo sta succedendo nel secondo le dinamiche sono dinamiche ordinarie non succede niente di che però ci sono quei momenti intensi quei momenti appunto di silenzio oppure quelle rivelazioni carine oppure le vedi proprio una di quelle letture che ti serve cioè che un attimo stacchi da tutto ti serve una lettura del genere ti serve la purezza l'ingenuità che ormai non hai più purtroppo ma che qui c'è tutta c'è tutta l'ingenuità c'è tutto ciò che hai subito o quello che hai sofferto se hai sofferto durante l'adolescenza qua troverai molti temi che ti possono aiutare o comunque che ti fanno rivivere quei momenti è un volume secondo ancora meglio del primo perché succede qualcosa che comunque non ti aspetti sicuramente ma che sai come andrà a finire però ci sono anche qui rivelazioni molto importanti in campo appunto della sessualità dei nostri protagonisti a cui si aggiunge appunto l'amica di Futaba di cui non ricordo il nome sinceramente ma che ci sorprende perché è una ragazza molto particolare soprattutto molto matura per la sua età mi è piaciuto davvero tanto il secondo tanto che ho acquistato appunto pure il terzo volume e nel terzo volume che qua Futaba si rivela finalmente rivela quello che vuole e soprattutto si rivela anche un pochino più Toma che all'inizio non pensavo fosse così caratterialmente nel senso un po' timido un po' riservato non pensavo pensavo che fosse quello classico come si può dire quel classico che c'è in tutti i manga di questo tipo cioè quello giocherellone quello appunto che fa lo stupido invece qua si rivela veramente molto profondo quello che mi ricorda molto Toma e poi chi sicuramente avrà scusate se mi metto comodo chi sicuramente avrà letto spero per voi perché è una delle serie che amo di più Jamin Apollon o Sakamichi no Apollon chiamatelo come volete Predito Planet in 10 volume che è uscito non so quanto tempo fa ma che ho adorato alla follia che è uno dei manga più belli mai letti il verito ma vi ricorderà uno dei protagonisti appunto di Sakamichi no Apollon che è uno dei protagonisti più belli in assoluto io adoro quella serie comunque tralasciando quello che vi invito a recuperarla assolutamente in questo volume si comprende un po' di più i sentimenti dei nostri protagonisti ma cos'è che Blue Flag dà che non che non ritrovo in altri manga di questo genere niente di che non c'è una storia che dà quei colpi di scena che non ti aspetti anzi qua ti aspetti tutto però è quella quelle atmosfere scorre bene l'ingenuità dei protagonisti so che Futaba non è nemmeno tanto amata ma io mi ci ritrovo tanto nella imbranatezza di Futaba e però anche nella sua maturità Futaba prende coraggio e diventa donna diciamo diventa più matura prendendo una decisione molto difficile per lei quindi è una storia semplice ma molto semplice però che sta andando avanti in modo da incuriosire il lettore in ogni sua sfumatura delinea il carattere dei personaggi di numero in numero non ti fa scoprire tutto del personaggio ed è quello che mi è piaciuto di questa serie che è ancora in corso in Giappone trovo che sia meravigliosamente semplice ed è quello che mi serviva in questo periodo perché la consiglio la consiglio perché è una lettura diversa dagli shoujo normali o scolastici qua è considerato shonen ma veramente bellissima quindi vi consiglio assolutamente di acquistare Blue Flag non ve ne pentirete fatemi sapere qui sotto se vi è piaciuto questa questa nuova rubrica e se vi è incuriositi riguardo Blue Flag e fatemi sapere appunto cosa ne pensate nell'info box troverete tutto ciò che riguarda i miei social spero che il video vi sia piaciuto e che la nuova rubrica vi sia piaciuta fatevelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video ciao